Ghiaccio e nebbia, questi nemici con cui hanno dovuto fare conti questa mattina gli automobilisti aretini. Lungo le strade della provincia si sono infatti verificati una raffica di incidenti stradali nel giro di poche ore, 5 in tutto le persone ferite. Il primo incidente alle 6.46 lungo la strada regionale 71, tra partine soci dove un'auto si è ribaltata a causa del ghiaccio e una persona rimasta incastrata tra le lamiere. Attorno alle 8 a Monte San Savino un altro incidente, 4 le auto coinvolte e 2 i feriti, una ragazza di 33 anni trasportata in codice giallo alla fratta ed un ventenne in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. A Dolmo in località Ristradelle invece una mamma e una bambina sono finite fuoristrada ribaltandosi, sono state portate entrambi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo fortunatamente non in gravi condizioni. Disagi anche in Val di Chiana come ci segnala questo cittadino, qui ci troviamo a Cigiano nel comune di Civitella in Val di Chiana, nel piazzale della scuola Gianni Rodari dove è evidente la presenza di ghiaccio. Quando ghiaccia o quando c'è neve e roba del genere sì, effettivamente non è che funzioni tutto al massimo. In quali zone? Io abito in zona Cappuccini, quindi la parte Cappuccini, Fonte Rosa fino al Margaritone effettivamente un po' anche l'anno scorso abbiamo dei problemi, però non so, si spera in un anno migliore dai. L'ho trovato però sto attento. In che zone? A Ponta la Chiasa. E com'è la situazione lì? Normale, sembra non sia molto grave insomma. Io viaggio molto a piedi quindi non so i problemi che ci possono essere, c'era ghiaccio ma vabbè c'era ghiaccio alla stagione che ghiacciano le strade e ghiaccia tutto. È comunque già scattato il piano neve della provincia di Arezzo che interessa gli oltre 1200 chilometri di strade di competenza dell'ente in azione mezzi spargisale e spalaneve. Noi ci avvaliamo di 36 imprenditori, quindi ditte esterne oltre il nostro personale. Le zone maggiormente attenzionate sono quelle della montagna, quindi Casentino, la Valtiberina, la montagna cortonese che sono quelle sicuramente dove gli eventi meteorologici sia ghiaccio che neve si verificano più di frequente. Sono oltre 1000 le tonnellate di sale acquistate dall'ente per un investimento di circa 90.000 euro ai quali si aggiungono i 360.000 euro per la gestione dei 36 lotti nei quali è suddiviso in reticolo provinciale. L'invito resta comunque quello alla massima prudenza. Il sale risolve determinate problematiche relative al ghiaccio, però poi si possono verificare delle situazioni particolari, per esempio in questi giorni in cui abbiamo queste situazioni di nebbia che si forma durante le prime ore del mattino, nebbia molto umida, si stende quindi bagna la superficie stradale e con le temperature molto rigide ghiaccia, nonostante avessimo dato il sale il giorno prima.